Domenica 30 luglio, buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di Telemulise, ma prima vogliamo darvi qualche annuncio per la giornata di oggi, gli appuntamenti in giro per la regione. Cantine riunite band dal vivo, questa sera arriviamo il tratturo in Contrada San Giovanni Cerreto di Campodipietra, pochi minuti dalla zona industriale di Campobasso. L'evento propone già da questo pomeriggio passeggiate a cavallo alla scoperta del tratturo e l'originale processione della Madonnina su un carro trenato da buoi. Per tutto il giorno degustazione di piatti tradizionali, pasta fatta in casa, piccantella e formaggi del tratturo. Nel pomeriggio convegno sugli antichi grani e festa della trebbiatura. E' un intero campo di calcio trasformato in un set western dove immergersi in un'atmosfera senza tempo. Colle d'Anchise, paese a 20 minuti da Campobasso e Serni, anche oggi salta nel west dal mattino con la passeggiata a cavallo nel west con colazione, spuntino e pranzo in stile western e visita alle bellezze delle zone circostanti. L'evento prosegue per tutta la giornata fino a sera. Tra le novità di quest'anno anche un baby saloon con animazione per i più piccoli. E continuano con successo gli eventi d'estate organizzati allo stabilimento Y Beach di Campomarino Lido. Tra musica e divertimento stasera l'artista Max Cavallari sarà ospite dell'innovativa location di Via Crispi. L'attore, comico e cabarettista di Zelig e Colorado regalerà uno spettacolo carico di allegria e gag esilaranti. Max Cavallari ha lanciato il suo invito anche sui social con un messaggio video dedicato proprio all'appuntamento a Lido, Y Beach di Campomarino a partire dalle 21.30. E dopo gli appuntamenti andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Con Daniele Ricciuto in regia iniziamo dal giornale del Molise.it. Legge e editoria presentato ricorso al TAR contro la sanatoria retroattiva, carte anche in procura. Poi questura di Sernia, ecco l'app per aiutare le persone sorde in casi di emergenza. Stefano testa troppa sporcizia nel centro storico di Sernia, poi dipendenti PD in cassa integrazione e Scarabeo pronto ad autosospendersi dal partito. Fallito un furto con esplosivo al postamat di Porto Cannone, poi contaminazioni pentre, cultura, arte e gastronomia nel centro storico di Sernia. Continuiamo con la stampa regionale, primo piano Molise, frato gli anni un quarto polo largo e inclusivo anche in Molise. Il segretario nazionale di sinistra italiana rilancia l'idea di una proposta alternativa alla destra di Salvini a Grillo e a Renzi. Conti in rosso, Scarabeo pensa di uscire dal PD, scatta la CIG per 174 dipendenti. Fanno saltare il postamat ma il colpo fallisce a Porto Cannone, poi furto da 40 mila euro in gioielleria, arrestati fidanzati insospettabili. La giovane coppia di Venafro inchiodata dalle immagini delle telecamere. Sulla Venafrana fratello e sorella travolgono un cinghiale con lo scooter, gravissima la ragazza. Termoli dopo quattro anni torna il doppio senso di circolazione sul lungomare nord, poi migranti nel centro di San Giuliano oppure l'assise civica di Colletorto dice no. Emergenza scuola in città, corsa contro il tempo, SOS al governo frattura, Palazzo San Giorgio, i civici suonano la sveglia. Vediamo lo sport, campo basso, dubbi sciolti, Pavarese il nuovo DS, l'ufficializzazione giungerà tra domani e a martedì. Granata, Agnone per accettare Bucci chiede il ritorno di Marinelli ed Ottavio. Poi calcio a 5, la Covisod dà l'ok, Sernia iscritta in A2 con uno sguardo al settore giovanile. Andiamo ora all'apertura del quotidiano. Scuola, 214 nuove assunzioni, critica la CGL, il prossimo anno ci saranno mille alunni in meno rispetto al precedente. Firmato il decreto ministeriale che definisce i contingenti, 147 docenti in provincia di Campobasso, 67 ad Isernia. Rapporto AC-Istat, più incidenti stradali, ma le vittime sono in calo. Poi a Porto Cannone, poste nel mirino, fanno saltare il banco, Matt, ma il colpo va in fumo. Sulla valutazione di impatto ambientale, il comitato No Tunnel torna all'attacco a Termoli. Piano operativo straordinario, la CGL è pronta a portare la questione a Mattarella. Termoli torna il doppio senso sul litorale nord, tra ritardi e scetticismo. Poi Venafro, furto in gioielleria, arrestati Bonnie e Clyde. Isernia, rapinatori incastrati grazie alla DR Automobile. Campobasso, ora le truffe iniziano a viaggiare anche su WhatsApp. Vediamo lo sport, Gigi Pavarese, nuovo direttore sportivo in settimana alla conferenza. Poi testerato il difensore, ex gladiator Nicola Lagnena. Poi Coppa Italia, stilati gli otto gironi del trofeo tricolore regionale. Il sesto campano si rinforza con l'attaccante di Gregorio in eccellenza. Futuro Molise, dipendenti PD in cassa integrazione, Scarabeo pronto ad autosospendersi dal partito. Poi Campobasso, la frazione Santo Stefano in festa per i primi cento anni di Oristina di Bartolomeo. I quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, missione in Libia, le tre condizioni e Aftar attacca anche il capo dei Guardiacoste. Non venite armati. Calenda alla Francia, non accetteremo solo il 50%, il duello sui cantieri STX. Adele, morire per una pasticca. Andiamo a vedere l'apertura di Repubblica. Raggi, chi critica è fuori, su Roma lo scontro PD-Movimento 5 Stelle, la sindaca censura l'assessore Querela, Renzi all'Atac, Amicopoli, Grillina. Poi da Venezia ai Borghi, la riscoperta dell'Italia. Dopo Repubblica la stampa, francesi in Telecom, dubbi dalla Consob, poca trasparenza. Interviste al presidente Vegas, vogliamo risposte alle ispezioni. Poi Venezuela al voto tra i veleni alle urne sulla Costituente, Maduro proibisce tutte le manifestazioni. Comincia in Sicilia la corsa per Palazzo Chigi, prove di alleanze in chiave nazionale, Rebus Alfano nel centro-destra è corteggiato anche da Renzi. Dopo la stampa c'è il messaggero Fincantieri, in gioco la difesa dell'Unione Europea, il ministro della difesa Pinotti, senza intesa, occasione persa per l'Unione, Calenda Macron su STX, non molliamo l'ipotesi contropartita per le commesse militari. Nuove regole di ingaggio, si parte il 7 agosto, le navi italiane antisbarchi in azione solo con l'Ok libico. Atac spacca il Movimento 5 Stelle, Raggi attacca e l'azienda non paga i primi TFR. Dopo il messaggero abbiamo avvenire che titola Tentacoli danzardo, condanne al processo gambling, la drangheta finanziava le attività criminali con le scommesse. A Reggio Calabria, appena dai 4 ai 12 anni, per 29 persone coinvolte nelle attività dei giochi truccati, il PM Musolino, flussi di denaro enormi. Schiave del debito, famiglie in catene per qualche euro, Pakistan, lavoro forzato di cristiani e hindu. Politica sui vaccini e atac, scontro PD, Movimento 5 Stelle, a suon di querele, Renzi no al premio di coalizione. Dopo avvenire, vediamo il fatto quotidiano, Renzi babbo ai amici da vomito ma senza whatsapp è meglio tacere. Messaggi di fuoco di Matteo a Tiziano. Clan, narcotraffico e slot a Roma dove la mafia non esiste, mazzetta capitale il nostro dossier. Nazionalizzazioni, Telecom, non regaliamo la rete alla Francia, dentro Enel e CDP. Andiamo a vedere il titolo del manifesto, fuori servizio. Bufera in Campidoglio, dopo le dimissioni del DG Atac, ha in polemica con la sindaca e la gestione acea della crisi idrica. L'assessore al bilancio rimette la delega alla casa e attacca Roma in tilt. Virginia Raggi lo licenzia, chi polemizza è fuori, la regenza di Grillo sotto accusa. Poi Francia Italia, Fincantieri, Roma dice no a Parigi. Dal manifesto andiamo a vedere Libero, bombe contro gli immigrati, il conto della gestione fallimentare dei profughi. Un africano accoltella un autista di bus a Siena, i carabinieri gli sparano, Eren attesa di espulsione. La gente esasperata perde la testa, Molotov verso i centri di accoglienza in Lazio, Sardegna e Veneto. La missione in Libia rischia di naufragare, Macron si tutela e pensa di chiudere le frontiere. Scalfari e Augas giocano a chi è più ateo, non credenti alla frutta. Dopo Libero vediamo la verità, casse vuote, il governo va avanti a condoni, prorogata la Voluntary Disclose BIS. Finora è stata un fallimento anche per la tipica ipocrisia della sinistra che pretende di fare sanatore senza dirlo e senza reali vantaggi per i destinatari, ma a settembre i nodi arriveranno al pettine e saranno dolori per noi. La Boschi regala quattrini a chi punisce i maschi, poi immigratolo a Coltella, autista in fin di vita per fermare Livoriano, allontanato da un centro di accoglienza e i carabinieri hanno dovuto sparargli. Prima delle notizie sportive vediamo quelle economiche, il sole 24 ore, in arrivo il bonus fiscale per lavoro 4.0 in azienda, credito di imposta del 50% allo studio per la manovra, poi Telecom, ecco il piano per la rete, scorporo e quotazione in borsa, acqua, quel 40% di perdite tra emergenza e leggenda. E dalle notizie economiche alle notizie sportive la Ferrari vola all'intervale, poi ore 14 GP d'Ungheria, prima fila tutta rossa, Vettel in Pol, che il lavoro ora serve la super partenza, al suo fianco Räikkönen, occasione per allungare nel mondiale. E con le notizie sportive concludiamo la nostra rassegna stampa, l'informazione di Telemolisse torna alle 14.00. Grazie per averci ascoltato, a tutti voi buona giornata e buona domenica. Grazie a tutti.